Io sono Riccardo Piloni, sono il presidente della pubblica assistenza Pianoro, comune colpito, come sapete, dall'alluvione. Purtroppo è un comune già colpito, sia a settembre ma anche l'anno scorso, e quindi siamo un po' psicologicamente, tra virgolette, passatemi il termine, preparati, cioè sempre in allerta. E non è facile, non è facile perché dobbiamo assicurare tutta una serie di servizi, che sono il servizio di emergenza con un'ambulanza H24 in convenzione col 118 e tutti i servizi alla persona, i servizi sociali, non in emergenza, sia per conto dell'USL che per i privati cittadini che per il comune. E in più si aggiunge ai servizi di protezione civile. Una cosa non facile perché ti trovi ad affrontare tanti problemi che riguardano persone che ne hanno più di te. Devi cercare di essere di aiuto, devi cercare di essere sempre un punto di riferimento, cercare di essere il collante tra chi può andare un attimo in crisi e poi riprendersi subito perché non scordiamoci che i volontari sono delle persone e anche loro possono essere colpite dal punto di vista psicologico quando si affrontano certe situazioni e non te lo puoi permettere perché devi essere di sostegno agli altri. Quindi è veramente molto critica questa cosa. E poi ovviamente bisogna conciliare il lavoro e la famiglia, insomma cercare di gestire un po' tutto, cosa che non è facile. Le preoccupazioni si condividono, quindi non si rimane mai soli, questo è importante, se no non sei associazione. Ampas è una grande famiglia, per cui ovviamente noi siamo stati quelli subito interessati come pubblica assistenza, ma le nostre forze, come tutte le piccole realtà, sono poche e le cose da fare sono tante. E qui interviene l'essere e far parte di un'associazione nazionale delle pubbliche assistenze, dove ci sono persone che ti arrivano da luoghi dove fortunatamente non c'è stato un problema, persone preparate, che non entrano a gamba tesa, è una cosa fondamentale, ma entrano in punto di piedi perché sanno che c'è un problema, quindi questa è una cosa importante e ti porgono la mano, condividono con te quelle che sono le necessità e si rapportano sempre, quindi questa è la cosa fondamentale, non si è mai schegge impazzite, ma si fa parte di un intero sistema che interviene pur provenendo da regioni diverse, quindi questo ci lega a un filo comune.